Ma e a tua mamma, hai mai fatto notare quando lei ti metteva sullo stesso piano di Roberto Baggio? Sì, però mamma, lui ha sbagliato il rigore contro il Brasile, oh! Mia madre non mi ha mai messo sullo stesso piano di Roberto Baggio. Cashmere incontra Netflix. Montudum, morbidissimo. Benvenuti alla quinta puntata di Cashmere incontra Netflix, un tudum morbidissimo. Se l'altro giorno abbiamo avuto l'ardire di iniziare cantando i rama, non sono tanto sicuro che il risultato sarebbe lo stesso. Cantando Mahmood e Blanco. Se vuoi proviamo. Vogliamo provare? Però tu mi devi fare il controcanto, è difficile, non è tanto facile. Io ti faccio Mahmood. Come si fa a rendere le labbra più grosse, carnose, belle? Qualche trucco, a diventare un canto? Come si fa a diventare un dio egiziano? Un dio egiziano, in due secondi. Eh, non lo so. Ma sai che più volte mi hanno detto, ma tu sai che assomiglia Mahmood? Aspetta, aspetta, ma tu sei Mahmood? Ma Mahmood è stato a LOL. Esatto, è stato a LOL ed è arrivato primo. Perché non ride mai, io penso che Mahmood l'ultima volta che abbia riso sia stata, no, è molto serio. Sì, è stato quando aveva vinto l'ultimo festival di Sanremo. Sai chi ride sempre? Blanco, passa tutto il tempo. È vero, sì. Sembra quando vai dal dentista e devi fare le impronte. È vero, è vero. Tutto il tempo. Complimenti agli annunciatissimi vincitori. Legittimi vincitori del festival. Hanno vinto quando è stato annunciato il duetto. Sì, è vero, immediatamente, immediatamente, sì. Pronti per l'Eurovision? Speriamo che vincano anche l'Eurovision. Ma a sto punto... Anche perché non credo sia mai successo che una nazione vincesse due anni di fila l'Eurovision. Back to back. Back to back, mai successo. No, è stata una grande serata, grande ultima serata. Podio io sono relativamente d'accordo. Vabbè, Elisa non poteva arrivare al secondo. Elisa era giusto, sì, sì, sì. Sono molto d'accordo sul secondo posto di Elisa. Stai andando forte. Un po' o meno sul terzo posto di Gianni Morandi. Apri tutte le porte. Avrei preferito, non so, un Dargen d'amico. Ma certo, ma il Dargen adesso si va a prendere tutte le hit list italiane, si va a prendere tutte le dance, non so come cacchia si chiamino. Appena riaprono le discoteche fa il panico. Le discoteche, le sale da ballo. Le discoteche, le sale da ballo. Quelle che invece infiammerà Gianni Morandi. Esatto. Tutte le feste dei bambini, i compleanni dei vostri figli, da oggi fino all'estate 2026, avranno come canzone Gianni Morandi. Eh sì, beh, la canzone è molto arrecchiabile, molto carina. Lui è un grande, vero. Terzo, quarto, il nostro amico. Irama. Irama. Gli abbiamo portato fortuna, Irama. Gli abbiamo portato buona. Assolutamente, sì. Altre posizioni strane. Rappresentante di vista, com'è andata? Settima. Settima, settima rappresentante di vista. Il che nacque cinese, ma poi diventò americano. Ma poi era diventato americano ed europeo. Esatto. Poi abbiamo... San Giovanni. San Giovanni è risalito moltissimo. Sesto. Sesto? Sesto. Quinto. Sesto San Giovanni, che è il quartiere. Ah, è vero che dovevano fare i meme. È un quartiere, ma una città. Avevamo questi esilaranti meme per otto mesi, invece ci siamo persi il sesto San Giovanni. Non stiamo salutando come al solito il team. Grazie ragazzi che avete seguito fino alla fine sia lì. Due guerriere. Due guerriere. Grazie a voi. Siamo in after tutti. Maestro Tairelli, buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene. Sei d'accordo con il podio? Sì, ma te posso dire, secondo me è pure inutile parlare dopo il primo posto. Cioè già che arrivi il secondo in giù se spiegare. Sei il primo degli sconfitti. Sei il primo dell'ultimi. Cioè comunque non ci va nessuno a Sanremo, a di vabbè, se arrivo il secondo, ma a collo. Cioè Tairelli vive tutta la vita. No, fidati, è così. Tairelli vive tutta la vita come Leonida quando andò alle Termopili. O su questo o con questo. Tutta la vita o muori da eroe o tu arrivi su questo. Scusa, che ci vuoi fare a Sanremo se arrivi al diciassettesimo? Eh, se scrivi al diciassettesimo ovviamente non è una posizione che non è proprio. Scusa, Anamena è arrivata al ventiquattresimo, secondo te quella stupenda canzone non verrà ascoltata. Luca, se l'è veramente legata al dito. Sì, dai, anzi, è arrivato anche sotto a Anamena comunque sia. Il maestro dell'autoironia. Un saluto all'amico, al mio concittadino, dottor Tananai. Tananai, che noi invece è diventata la nostra canzone preferita del festival. Siamo per andare anche dal nostro Carmelo che ha preparato ovviamente... Sì, ha le sue pagelle, sì, lo spartito del maestro avanzato. Come stai dopo questa maratona di cinque giorni a vedere Sanremo? Frastornato. Ho bisogno di molto riposo. Ci sono stati dei momenti forti, devo dire, durante tutto il festival. Per esempio noi abbiamo ignorato per un sacco di tempo che il maestro Musti, quello che ha diretto le canzoni di Gianni Morandi, era quello di Horny Horny. Sono molto fiero di averlo riconosciuto e di averti... ti ricordi quando hai sentito... la strofa non l'hai riconosciuta, ma quando è partito... Quando è partito il ritornello. So horny, I'm horny, horny, horny. Ma è quello che sta dirigendo Morandi. Ma come è? Horny, horny, horny. Ti immagini Morandi che canta... Horny, 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 horny. Stai andando forte. Carmelo Avanzato, hai un... sei d'accordo con il podio? Mmm... come potete aspettarvi? In realtà no, perché... Basti al contrario, come al solito. Ma sì, io sono sempre dell'idea che l'arte la debbano fare i coraggiosi e i sinceri, quindi per me la classifica è più vicina se fosse al contrario a quella che... E sulla tua lapide, Carmelo Avanzato, ti ricorderemo così. L'arte dovrebbero farla i coraggiosi e i sinceri. Lapide messa al contrario, cioè con la barra fuori e la lapide sotto. Sì, certo, e la lapide sotto, verissimo. Sarà un piacere venire a trovarti al Camposanto. Però qualche premio mi sono permesso di darlo e, ad esempio, avete nominato... Annamena, che ha vinto l'ambitissimo premio della canzone migliore che esce da una tv mentre aspetti che ti scaldino il kebab. In effetti, se potesse essere percepita la CIA soltanto dentro i kebabari, Annamena sarebbe già miliardaria, basterebbe quello. Quella invece è il grande sconfitto, se vogliamo, di questo festival, posto il fatto che possa mai essere sconfitto un personaggio come lui, Achille Lauro. È passato un po'. È passato un po' in sordi, ma secondo me quest'anno non gli andava troppo. Grazie a Dio, che palle. Grazie a Dio. Ah, tu non sei un laureano di ferro. No, perché ha fatto una via di mezzo. Non ha voluto puntare tutto sulla musica, ma non ha neanche voluto puntare tutto sull'immagine, come gli anni scorsi. È vero, quest'anno sembrava una cosa a metà. Ha fatto una canzone e pure un'esibizione meh. Ha chiesto scusa a Loredana Bertetti, è il momento più notevole. Per cose loro che non sappiamo cosa sia. Una questione dei confini demaniali, hanno una casa a Santa Severa vicino, c'è un'infiltrazione. Achille Lauro ha vinto il premio miglior canzone che può partecipare anche al prossimo Sanremo. Perché dice che ci sono quattro anni che scrive sempre la stessa. Sono quattro anni che lo vince sempre. Però immaginiamoci un attimo perché il podio è... c'è sempre una grande verità nel podio. Però se fosse successo al contrario, che se Elisa avesse vinto oppure ancora meglio se Gianni Morandi fosse arrivato primo e Mahmoud e Blanco fossero arrivati secondi, ci riusciamo a immaginare una situazione del genere e la rosicata che avrebbe provato Mahmoud la medesima che provò ultimo quando al primo posto c'era Mahmoud. Momento. To doom. Sta la stampa, Mahmoud gli viene chiesto cosa ne pensi di questa vittoria a parte di Gianni Morandi. Mahmoud risponde con il suo accento, ma perché mi sta a fare questa domanda? Scusa. Che sta a chiedere questa cosa? Non capisco perché sta dicendo Gianni Morandi. Gianni Morandi è un ragazzetto, è un ragazzetto. Scusa, scusa Mahmoud, intervengo pure io, Blanchito. Allora io sinceramente ho sempre pensato, ho sempre pensato larga ai giovani. C'è questo ragazzo di Monghidoro che abbiamo sentito cantare, che senz'altro meritava qualcosa. No, bravo, bravo. Una canzone migliore, senz'altro. Bravo Gianni, bravo. Bravo Gianni, stai andando forte, apri tutte le... Eh, te voglio vedere sfidare la cantante da Mordavia, questo stato dell'Eurovision. Guarda, te voglio vedere... Vedi gli islandesi che brucio di culo che te fanno. Che te fanno, va a facci e sta zitto. Ricordiamo che c'è, fate manna da mamma a fanculo, guarda. Ricordiamo che si può, si rosica in tante lingue, ma in realtà si rosica solo in romano. Ah, certo ovviamente, sì, la bandiera della rosicata, c'è la lupa capitolina. Andranno e sfonderanno l'Eurovision, forza ragazzi. E la Champions League dei... La Champions League dei cantanti, verissimo. Sì, 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 assolutamente. Diamo dei piccoli premi anche per tutte quelle persone che sono state a casa. In questi giorni, gruppi d'ascolto. Vogliamo dare il premio miglior padrona di casa a Cecilia Attanasio, che ci ha ospitato. Un applauso, sì, che ha ospitato, sì, il gruppo di ascolto. Ospitare i gruppi d'ascolto a casa non è facile, perché poi c'è sempre il momento in cui ti chiedono quello, dici, ma non è che per caso c'hai un altro limoncello? Devi tirare fuori quello buonissimo che ti aveva regalato, tuo zio. Fatto quelle foglie, non quelle buce. Esatto, vuole fare dalla signora, eccetera, eccetera, è così. Poi, premio Iva Zanicchi, Politically Incorrecta da Alice Oliveri. Sì. Non potete sapere le porcate che ha detto in questa sessione. Se quelle quattro mura potessero parlare. Sarremo così, ragazzi. È vero, sarremo tirare fuori il meglio, ma anche e soprattutto il peggio. La dedico a Daniela Santanchè. Brava, benissimo, molto bene. La Vittorio Feltri del commento. Miglior ascoltatore costretto a vedere il festival, Luca Filippo Ravenna. Grazie, grazie, ce l'ho messa tutta. Grande intesa fra me e Luca, ci sono dei momenti in cui stavamo per cedere, c'era proprio il momento tipo... Quegli sguardi fra uomini che non devi dire niente, c'è proprio un cenno già con l'app del taxi in mano e le ragazze. Ma perché non vi sentite un altro? A che cantante siamo? All'una e mezza? È il sesto. No, vabbè, c'è H7. C'è H7. Dopo H7. O H7, non lo so, non mi viene un cantante più paragonale. Il nuovo Michele Zarrillo. Il nuovo Michele Zarrillo. No, diceva Carmelo, il nuovo Amedeo... Mango. Mango, il nuovo Mango. Sia melodicamente che ritmicamente richiama Mango. E se lo dice il maestro avanzato... Premio cattiveria a tutti quelli che hanno infangato i nomi degli artisti sentendosi più bravi di loro a cantare il ritornello di Sei bellissima, Edoardo Ferrari. E' vero, sì, devo dire che sono stato abbastanza scorretto. Quando sentivo che è arrivato, dico adesso Achille Laro sta per cantare Sei bellissima, sicuramente la canta molto male, la canto molto meglio io, Sei bellissima di Achille Laro e invece mi sa tanto di no. Premio gambe più belle del festival. Basta, senza dirlo, senza dirlo, è sempre lei. Un'altra, quanto cazzo sono belle le gambe di Loredana Berterra. Lei che va a ritirare il premio? Quattro mille! Due gambe in ottone che le vengono date. Sono molto contenti. Grazie, allora, adesso con le tue belle gambe puoi camminare, Achille te la vieni a riprendere Loredana, vai, abbia pazienza. Poi, vabbè, ieri grandissima co-conduttrice Sabrina Ferilli, lezione di stile, grandissima eleganza. Come fare un monologo senza fare un monologo, perché quello vogliamo vedere a Sanremo. Persone che parlano col pubblico. Abbraccio. Abbraccio, anche un po' abbraccio. E a proposito di abbraccio e di abbraccio, un saluto con rispetto al piccolo Gioseppe. Il piccolo Giuseppe. Uno dei momenti che tutta Italia avrebbe voluto vivere. Sono abbracci che non si scordano facilmente. A una certa età, essere abbracciati da una divinità, sostanzialmente, la dea della fertilità azzeca. Amadeus e Giovanna a tavola che è pronto da un bel po'. Ma dov'è Giuseppe? Perché non viene a tavola? Giuseppe, ma è l'età, è l'età, dobbiamo capirlo. Giuseppe, ma ogni doccia... Hai insistito tu a farci fare quell'abbraccio a Giuseppe. Ho capito. Ogni doccia dobbiamo impiantare 700 alberi, Giuseppe. Dai, fai la cortesia, eh. Le fai su Twitch, subito. Grandi premi, grandissime serate. Cosa hanno avuto in comune queste cinque sere, una con l'altra? Che si mangiava guardando. Che si è mangiato. Si è mangiato, c'è un menù ideale per Sanremo, che a questo punto noi consigliamo. È una complessa commissione fra carboidrati e proteine equilibratissima, bilanciatissima. Siamo diventati dietisti come Carmelo Avanzato. Carboidrati, proteine, dolcetti e dolcettini, qualche fibra qua e là. Ma soprattutto non dimenticate mai le tisane. Mai, mai. Al finocchio che sgonfia, alla malva che ti aiuta. Arancia e cannella che ti fanno sentire un po' peperina. Limone e zenzero, che fai tutto il viaggio in taxi, digerendo. Col tassista, ma sta bene? Sta bene, tu vuole portarsi ad Andrea? Volevo fare un applauso e un ringraziamento ai tassisti romani. Ho detto tassisti e non tassinari. C'è una grande differenza. Bravo, perché c'è una grande differenza come insegnano proprio i tassisti. No, menù, quello lì, e mai sbagliare menù. Perché poi dopo devi tirarle due di notte con la digestione messa. E io purtroppo ho fatto un errore. Abbiamo provato varie cose, sì. Un abbacchio. E per un abbacchio intendo un intero abbacchio. Sì, sì, sì. È stato veramente... Sono venuto la mattina dopo che stavo... Mi sentivo come... Sì, devo dire che quando è tornata sul palco Iva Zanicki... Era più leggera. Era più... L'abbacchio... Luca Ravina l'ha visto un pochino che... È stato uno di quei momenti in cui ero io... Che la tisana, limone e zenzero ha fatto come la mentos nella Coca-Cola. Nulla ha potuto. Nulla ha potuto. No, grande. Bere poco, perché Sanremo... Bere poco, non si beve. Non si beve. Non si beve tanto. Perché cosa stai a ubriacarti guardando Sanremo? È tutta una grande ubriacatura. Quando ti possono ubriacare tre ore e mezzo di canzoni. Di canzoni. Sì, 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 assolutamente. C'è stata... Ma quanto è triste Sanremo nell'istante... Oggi pomeriggio? No, domani, dopo che fanno le ultime dirette. Sanremo, quando si svuota di tutto. Ah, guarda, non lo so. Quei Sanremesi felici di avere le persone fuori dalle palle. Si sono tolti dalle palle. Si sono tolti dalle palle. Fammi rivedere lo spot con Elisabetta Canalis, che è la nostra gioia. Che meraviglia, esatto. Elisabetta Canalis, che diventa cittadina onoraria della Liguria. È vero, però, perché poi c'è proprio la situazione del... La festa sta finendo, gli amici se ne vanno. Un altro anno è passato. E chissà, davvero, domani mattina si sveglierà Sanremo. È il classico momento in cui i programmi pomeridiani della TV vanno a prendere quello che stava da setta... Edsono non ne ha persa neanche una di edizione, signor Gerva. Di edizione, dottor Calogero Cervetti. Eccolo qui. Allora, Cervetti, lei ricorda, nel 1967, chi arrivò a quart'ultimo? Andremo perché ho freddo, eh, sia chiaro. Sì. Sto provando i brividi. Lei ricorda chi fu testimonia della regione Liguria nel 1981? Le gemelle Kessler. Benissimo, anche loro Liguri nel sangue, da sempre. Sì, sì, sì. Dottor Cervetti, cosa ricorda di quel momento in cui salì Dulbecco sul palco dei festi di Sanremo con Fabio Fazio, se non sbaglio? Oh, io sono Novax. No, no, Cervetti, Cervetti. Un momento solo. Non parlo con gli uomini di scienza, non mi fido. Dov'è la Canalis? Eh, beh. C'è sempre stata... Il vecchio ubriaco. Esatto, di Sanremo, che meraviglia. Poi forse dovremmo anche spendere due parole su le persone che popolano Sanremo durante i giorni del festival. E quei personaggi... Un trattato di psichiatria moderna. Se si potesse riscrivere la storia della psichiatria, bisognerebbe ripartire da Sanremo. Persone, noi ci siamo andati un anno, che hanno, mi ricordo, sotto l'ascella delle cartelline che loro stessi fanno nel corso di tutti i mesi precedenti. Loro ritagliano i giornali di Vaidonna oggi, gente, eccetera, e fanno delle cose... E poi ti interrogano, perché avevano capito che noi saremmo andati, probabilmente. E dicevano, setta, ma lei per caso è il pass dell'Ariston, ma questa sera chi è che fa il momento della Regione Liguria? Chi è che canta stasera? Dici, guardi, veramente non lo so. Glielo dico io. Allora, questa sera c'è il Mahmud e poi suona l'ultimo. Ma questo era un inviato già dell'Eurovision, un piemontese che era venuto a preoccuparsi della situazione. Sì, sì, no, è incredibile. Vanno a fare le foto con tutto, con tutto quello che succede, capita. Qui ha mangiato Amadeus un paio di Vigorsol perché aveva la sera prima esagerato con l'aglio. L'altra sì. Con le macchine fotografiche vecchie a scuola. Ho visto una storia di Cosmo fuori dall'Ariston che inquadrava un signore. Posso fare una foto col cantante? Col cantante è qui un po' a fare la foto. Stop greenwashing, bravo Cosmo. Bravo, bravo il Cosmo, egli era proprio cantante, bravo, bravo. È una follia tutta italiana, non c'è un altro paese che fa questa cosa incredibile. In Eurovisione, tra l'altro. E pensa davvero in Danimarca, questa famiglia che si siede a tavola. Sì, sono Sanremo, Amadeus, Sottorola. Sì, sono con Giovanna, Sottorola, José, Sabrina Farilli, Sottorola, Sottorola, San Giovanni. Ci saranno persone che lo vedono, lo sentono e ridono tantissimo. Ma potete ridere quanto volete. Ma tanto. Sanremo. È Sanremo. Oh, è passato invece una cosa interessante. Allora, chi vorremmo vedere come prossimo conduttore? Perché questo mi sa è terzo anno di governo Amadeus, mi sa che non è difficile che se ne faccia un quarto. Non è mai successo nella storia della Repubblica. Se ne parla, so, eh. Ah, se ne parla? Un eventuale quarto mandato. Sarebbe proprio iubris. Sarebbe iubris. Non gli conviene, poi dopo questo grande successo. È passato però un decreto legge, cioè i non eletti come Presidenti della Repubblica, di diritto, possono condurre Sanremo il prossimo anno. Leggiamo due nomi. Beh, Casellati. Sì, quelli che fanno i senatori quando si divertono, che è il nome, presentare voi i nomi buffi. Abbiamo sì i classici, cioè quelli Casellati, Casini, Bersani. Festival Bersani. Beh, bello. Bello. Da morire dal ridere. Sì, sì, sì. Allora, signor, momento però, se qui dobbiamo parlare di canzoni, se dobbiamo parlare di musica, io prima parlerei del quarto triangolista dell'orchestra, il quale, secondo me, non è retribuito molto, se permette. Ora, voglio fare un momentino un monologo, 47 minuti di Bersani. Però gli spot impazziscono. Gli spot, sì, 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 è il momento migliore. Sì, sì, è la cosa che diventa testimoni. È un Sanremo fatto con poco, questo, non ci abbiamo avuto appoggi. Benvenuti in piazza, siamo vicino a Piacenza, che lui è di Lirica, che sta in San Giovanni. Allora, ecco, la mia spalla comica oggi è Alberto Angela. Siamo a Piacenza, una città meravigliosa nella Padania. Che cosa abbiamo qui a fianco a me? Bersani, diventato il nuovo testimonial della Nike. Si fanno tipo Fiorello e si mettono le parrucche. Fanno una gag, perché di sforza sono arrivati fin qui, fino a Piacenza. Una sapida gag. Ora andiamo col prossimo... Alberto, dammi una mano. Allora. Ti sei vestito come la drusilla, però. È una gag che ho voluto fare. Fin dai tempi dell'antica Grecia era un'abitudine già diffusa all'epoca. Giovanni Rana potrebbe essere prossimo conduttore del festival. Perché è stato nominato a un certo punto. Serata dei duetti. È stato messo nell'urna. Come i cosi. Tortelli. Esatto. E poi, vabbè, Nino Frassica, Enrico Ruggeri, un festival che devi continuamente gestire il volume della televisione. Bentornati al festival di Salerno. Andiamo a presentare... Il festival è solo uomini. Sì, soltanto uomini. Non gradisce la presenza dell'altra faccia della luna. Della luna. Questo è un mistero. Quello che le donne non dicono, inteso che qua non parlano. Che non possono proprio assolutamente dirlo... Senti, ma a proposito di conduttori. Sì. Di conduttori veri. Noi ci siamo messi lo smoking. Perché noi abbiamo fatto un po' così. Ci siamo messi un po'. La gag, abbiamo messo le cose, i papillons, le paillettes, eccetera, eccetera. Parliamo di gente che lo fa davvero e di mestiere. Di gente che sa conduttori. Salutiamo l'ultimo ospite che è venuto a trovarci. E che ospite, signore e signori. Facciamo una sorta di applauso che non possiamo fare perché siamo qua. Perché siamo qui, noi due. Però grazie per essere con noi a Cashmere incontra Netflix ad Alessandro Cattelan. Buongiorno, morbidissimi. Buongiorno. Che meraviglia. Grazie, grazie mille per questa citazione. Sei in formissima, eh? Sì, un po' smagrito. Purtroppo stando sul set devi stare in forma. Io sto finendo, come vedete dal mio abbigliamento, ho letto di girare il remake di Happy Days. Ah, l'avevo letto, sì. Interpreto Pozzi e quindi sono venuto direttamente dal set vestito come ero. Grazie per l'ospitalità. No, guarda, grazie mille che sei qua. Speriamo che tu ti senta a tuo agio, nonostante la posizione di guardia che stai tenendo. Io ho paura di prendere un pugno sulla tempia. Sì, anche io. Siamo come facchinetti come Gregor. No, io all'inizio sono così. All'inizio sono un po' così. Ci metto un po' a sciogliermi perché non mi fido tanto all'inizio delle persone. Ma poi dipenderà anche da voi, ecco. Dipenderà da voi. No, 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 guarda, siamo tranquilli. Tanto appunto iniziamo con una domanda facile. Se sei d'accordo con il podio. Sì, sono d'accordo con il podio al punto che con grandissima presunzione, quasi uguale a quella della mia squadra ieri quando al settantesimo ho smesso di giocare per Manifesta Superiorità, ieri a lunedì notte ho detto vabbè dai so come va a finire e me ne vado a dormire. E quindi proprio la parte finale non l'ho vista, ma ero sicuro che il podio sarebbe stato quello. Stamattina ho ritrovato esattamente quello che immaginavo. Ok, io non ho idea di cosa tu stia dicendo, non ho capito il riferimento e... Non l'hai ancora visto, Luca? L'hai tirata fuori te, l'hai tirata fuori te. Stamattina ho visto Luca, sembrava che gli avessero menato praticamente. Brutta, una brutta situazione. Invece bello è stato Sanremo, ricordiamo che il calcio divide e la musica unisce. Stai cambiando argomento per caso? No, allora, guarda, noi siamo... È stato un festival particolare, c'è stato un momento che ti ha colpito particolarmente in questo festival, qualcosa che ricordo. Noi siamo rimasti per esempio abbagliati dalle flessioni di Amadeus insieme a Ercomi, per l'appunto. Sì, quello è stato un bel momento. A me è piaciuto il monologo di Sabrina Ferilli ieri il primo, per esempio. L'ho trovato... Cioè, quella leggere... Cioè, mi sono trovato molto d'accordo, senza averci mai ragionato troppo prima, ma però effettivamente mi è piaciuto molto quando lei ha detto alla fine ma perché devo venire qua Sanremo e portarmi per forza sulla schiena dietro un problema. Cioè, io vengo qua per il mio lavoro e voglio godermi questo momento. L'ho trovato un momento di leggerezza molto bello. Le flessioni di Amadeus, belle. Che cozzalone a me ha fatto ridere. Boh, sì, questi. Beh, vabbè, sì, grande leggerezza. Ieri Sabrina Ferilli ha preso l'Italia per mano e l'ha detto, ragazzi, eh, quanto c'è... Quanto ci piace chiacchierà, stiamo tranquilli. Quanto ci piace chiacchierà. Dai, stiamo sereni. E poi ha preso pure Giuseppe per mano. Il problema è stato questo. Ha preso Giuseppe per mano, cambiando... E poi Giuseppe ha preso per mano qualcos'altro. Eccoci! Purtroppo, vabbè, gli ha cambiato l'adolescenza. Edo, tu come ti saresti comportato in una situazione del genere? Sabrina Ferilli scende e ti abbraccia, tu hai 13 anni. Con mia mamma e mio papà a fianco, che mi stanno guardando. Credo che sarebbe stato... Avrei iniziato la terapia immediatamente. Se l'hai andato dritto, dritto in terapia, non avrei ancora terminato, probabilmente. Quella sarebbe stata la mia reazione. Eh, sì, sì. Grande, grande, grande Giuseppe con quel nome così straordinario. Un ragazzo... Lui è lo spettatore numero uno di Sanremo. Non poteva... Non penso sia mai andato in bagno in cinque sere. Ah, no, mai. Certo. Grande, grande resistenza. Prima fila con tua mamma accanto, impossibile. Eh, sì. Sì, sì, sì. E invece dei momenti che ti hanno lasciato un po' così? Che non so che domanda sia, però quante volte? No, infatti adesso la elaboro un attimo. Ok, ma durante le cinque ore di diretta ti è mai capitato, per dirla meglio, che so, di avere un attimo l'occhio che si spegneva, quel momento di... No, ma questo secondo me lo mettono in conto. Hai presente i supermercati? Allora, guarda, sulla curva... I supermercati all'inizio... Sì, no, i supermercati all'inizio dell'anno fanno un budget previsto in cui, non so, gli autogrill mettono anche in conto le cose che sanno che gli ruberanno. No, nel sbaglio. E quindi, secondo me, allo stesso modo, Sanremo nell'arco di cinque puntate mette in conto che ci sono dei momenti un po' di calo della tensione. Vero. No, certo, ovviamente quando controllano tutti i tecnici, guardano i dati, dicono questa è la curva del sonno, guardami come stiamo a salire, 12 milioni, 16 milioni... Ecco, se ho una fase REM, e non intendo che Michael Stipe, che quest'anno non l'hanno potuto di chiamare ospiti, ma un altro tipo di fase REM. Senti, invece noi abbiamo delle canzoni che secondo noi diventeranno assolutamente degli spot la prossima estate, per esempio Gianni Morandi, il pezzo, si presta tantissimo a compagnie di telefonia... Sì, a tutto, a tutto. Però compagnie di telefonia, però, tipo 2006, cioè quando ti offrivano 500 SMS gratis a due numeri a tua scelta. Quest'estate con telefon apri tutte le porte, 300 minuti gratis verso due numeri a tua scelta. Ma Gianni Morandi è una grande presa, in realtà, cioè mia figlia, quella più grande di dieci anni, impazzita per Gianni... Cioè Gianni Morandi è il nuovo Rovazzi, abbiamo già fatto il giro, abbiamo già fatto il giro. Grandissima presa sui bambini. Quella sì, altre canzoni da spot? Ma secondo me è sempre la stessa, dicevamo, sempre Gianni Morandi potrebbe essere anche per chi ha lo stesso problema che ha avuto Berrettini in Australia, che ha ringraziato un noto farmaco, diciamo, che permette di avere delle performance, ma goggiore di concentrazione. Chiudi tutte le porte! Quelle sì, ti rimangono un po' in testa. Vabbè, ci sono anche quelle un po' più serie, un po' più brividi. Per cosa la vedreste, per uno spot? Ah, brividi, brividi di Blanco e Mahmood. Quella è... abbiamo qualche idea. Brividi, secondo me, detergente intimo per signore. Giustamente, i cilli. Quale si presta meglio, se non i brividi? Nel mio intimo c'è Blanco. Bellissimo, coloro che compaiono mentre lei entra a cavallo. Il cavallo, esatto. Sono gli angeli della pulizia. Esatto, e va bene. E il momento spot lo abbiamo portato a casa. Senti, invece Ale, io non posso non farti una domanda, perché tu hai girato un programma che uscirà a breve su Netflix. Io, allora, avevo letto questa notizia, però vorrei da te conferma. È vero che Banksy, in realtà, è un idraulico di Avellino? Allora, non lo so, perché nonostante gli abbia mandato un messaggio esplicito, proprio io non ho ancora ricevuto risposta, e questa cosa mi ha anche stupito, non ho mai avuto contatti con lui. A questo punto, visto che è evidentemente molto impegnato, potrebbe essere un idraulico, sì. Buonasera, signora Alessandro. Sono a Banksy. Sì, volevo chiedere se per quella perdita brutta brutta che tiene ci vengo a fare un murales. Guardi, con la macchia di umidità la possiamo coprire, abbiamo il ritratto di una bambina che tira i baci alla polizia, il dottor Cattala. Ci dica lei come vuole sistemare, facciamo tutto. Se lei vuole, possiamo risolverla così. E poi, diciamo, 150 euro, come si dice, a mano, per carità, senza arrivare fino all'asta da Sotheby's, insomma, va bene, anche 250 euro. Sistemiamo poi, ma che ci mancherebbe. E no, quello, vabbè, insomma, lui non l'hai conosciuto, invece altre domande rispetto a come ti sei rapportato con le sculture di Roby Baggio, tu hai conosciuto il più grande calciatore italiano, il più amato calciatore italiano di tutti i tempi, forse anche il più grande. Sì, il mio livello di rapporto con Roberto Baggio è che a casa mia mia madre ha una credenza dove tiene i piatti, il servizio buono, i bicchieri, quelle cose lì, all'interno dell'anta di quella credenza ha tre foto, una mia, del suo unico figlio, due di Roberto Baggio, per dirvi come io sono cresciuto, come io sia cresciuto con una sorta di conflitto nei confronti di Roberto Baggio, che è la cosa che più mi ha stupito e che è quella che poi abbiamo raccontato, al di là dell'aspetto meditativo della sua vita, perché comunque lui è veramente… Una scelta. Sì, cacchio, ma sono trent'anni che tutte le mattine si spara sti quaranta, cinquanta minuti di meditazione tutti i giorni della sua vita, cioè è veramente uno committed, ma poi è un intagliatore di anatre. Ma tu dici, tu dici, va beh, intaglia le anatre, è un hobby, ci può stare, è un hobby come un altro, quante ne avrà? Una decina? Un centina, ragazzi, ma migliaia di anatre che costellano la sua abitazione, cioè la sua abitazione è completamente piena. Ma c'è un motivo per cui intaglia solo ed esclusivamente anatre, cioè ogni tanto intaglia anche un capriolo, una marmotta… No, no, solo anatre, solo anatre. Sì. Quando uno è appassionato, è appassionato, solo anatre. Quando uno ha una passione, no, solo anatre. Ma a tua mamma, hai mai fatto notare quando lei ti metteva sullo stesso piano di Roberto Baggio? Sì, però mamma, lui ha sbagliato il rigore contro il Brasileo! Mia madre non mi ha mai messo sullo stesso piano di Roberto Baggio. Sia chiaro. Senti, ma invece sei pronto per l'Eurovision o no? Ma sì, credo di sì. Guarda, il team è bello, il gruppo è unito. Con Laura e amica abbiamo fatto delle cose divertenti in passato. L'ultima volta che sono stato insieme a Laura Pausini a lavoro eravamo vestiti da Olaf e Anna di Frozen. Quindi, cioè, minchiate le abbiamo sempre fatte nella nostra vita e quindi credo che ne verranno fuori anche in quel caso. Ma sei preparato anche a presentare tutti i vari cantanti che vengono da quei paesi un po' mattacchioni? Quei nomi impronunciabili. Sì, dalla Georgia, tutti questi. Con un grande successo. Quindi nessuno di noi avrà idea di cosa canteranno, è impossibile. Oppure quell'inglese matto. Io ho sempre sbeffeggiato negli anni i commentatori, i telecronisti sportivi di calcio. Quando, non so, vai a giocare con il Rubin Kazan e devono impararsi la formazione di undici nomi improbabili. Credo che vivrò la stessa sensazione lì, però ci prepareremo. Mi hanno detto che anche sulla pronuncia esatta dei paesi sono molto, molto attenti e molto fiscali. Quindi dovrò fare anche un corso per dire bene Azerbaijan! Ah, certo, hai ragione. Sì, perché uno magari... Ukraina! Tajikistan. Io sbaglierei tu, sicuramente, con una pronuncia affettatissima. Beh, allora, intanto ti facciamo notare che sono 15 minuti che sei rimasto sempre, con la guardia alta. Sì, infatti, non mi sembra che ti hai sciolto tanto, invece mi sembra che sei ancora a guardinco. Non mi avete messo in omaggio, è colpa vostra. Hai ragione. È colpa vostra. Va bene, comunque ti ringraziamo per essere stato con noi e in bocca al lupo con il programma su Netflix. Quando lo potremo vedere? Dal 18 marzo verrà caricato sulla piattaforma, quindi visibile in tutto il mondo. Non lo so di immaginare in Kazakistan come stiamo aspettando questo momento. Però lo potete mettere in pre-save, salvarlo, lì, come si dice, in pre-order, lì, non lo so, potete aggiungerlo alla lista da adesso. Ah, ok, quindi non va col classico palinsesto, vecchia scuola, solo alle 9 di martedì sera. Alle 20 e 50 sul Netflix. È sempre lì a vostra disposizione. Benissimo, grazie mille per essere stato con noi Ale e noi salutiamo il nostro pubblico. Grazie mille davvero. Per averci seguito in questa epopea. Sono stati cinque giorni bellissimi, una grande, grande, grandissima maratona, l'abbiamo portata a termine, come quegli atleti che arrivano, che stanno tremando totalmente senza liquidi, con i muscoli terminati, e se non ti mettono una coperta termica addosso, gli muori e diventa una grande storia di cronaca. Grazie mille davvero, è stata una grandissima maratona, salutiamo i protagonisti. Alice Oliveri, Cecilia Attanasio, Tahir Hossein, il maestro Carmelo Avanzato. Forse un'ultima perla del maestro. Ah, se volete un paio di premi veloci, c'è uno ancora. Prego, in chiusura. Migliore artista da utilizzare come password per lo speed, I, snob e who. Molto bello. Un premio critica invece per la scrittura candida a Tananai. Scrittura candida a Tananai, benissimo. Grande Tananai. Un applauso all'ultimo arrivato, all'ultimo posizionato nel festival. Il fru, diciamo, se Sanremo fosse stato lol, saresti fru. E tu saresti Anna Mena. Che meraviglia. E ne vado molto fiero. Edoardo, è stato un super piacere. È stato un piacere Luca. Salutiamo di nuovo Alessandro. Ciao ragazzi. Voi fate come vi sentite, io rimango qua. Ok, perfetto. Va benissimo, d'accordo. Voi che ti portiamo qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, un sacco da colpire. A vostro cuore. A vostro cuore. Vabbè. Ok. Grazie a tutti per essere stati con noi. e chiudiamo l'ultima puntata di Cashmere incontra Netflix, un Tudum morbidissimo. Ciao raga. Mi sentite? C'è ancora qualcuno? C'è ancora qualcuno? C'è ancora lui? Non ci volto.